Una vittoria travolgente, un inizio importante. È stata una vittoria molto bella, bella anche perché è venuta a tre minuti dal fine, ma dico la squadra si è impegnata dal primo al novantesimo e questa è la cosa che mi piace più di questa squadra che fa onore alla maglia della Rez. Il mio impegno è massimo, quindi stiamo cercando tutta la società a fare sempre meglio e questa è una promessa vera. Io sono molto sereno, i sponsor, nomi importanti sulla maglia, è stato molto bravo Massimo Anselmi, domani avevamo la conferenza di presentazione però purtroppo per il lutto cittadino, la tragedia che oggi è successa ad Arezzo, anzi faccio le condoglianze alle famiglie delle due vittime perché nel 2018 una cosa del genere è una cosa assurda. E quindi stiamo lavorando anche in quel campo bene e speriamo sempre di avere l'aiuto di tutti. Dobbiamo per l'appunto ricordare un accadimento di questa mattina che ci porta ad un taglio serioso di questa serata e quindi faremo un minuto di silenzio e ricordo dei nostri due aretini che non ci sono più. Questo rattrista la serata ma dopo un incontro che abbiamo fatto con il sindaco abbiamo deciso comunque di mantenere questa tabella di marcia. Abbiamo definito come avrete potuto notare dalla prima di campionato gli sponsor di maglia, quelli principali quindi poi faremo anche una conferenza stampa dedicata però devo dire che abbiamo veramente la convinzione che questo progetto sta prendendo la forma che tutti aspicavano e siamo veramente soddisfatti di questo risultato anche perché gli aretini stanno credendo nel progetto non solo la tifoseria, non solo quelli appassionatissimi di calcio ma anche gli imprenditori. Questo per noi come società è di grande importanza.